se sei un fan di Elena Sofia Ricci sicuramente ti sarà capitato di chiederti chi sono stati i suoi ex compagni oggi ti racconto tutto su Stefano Mainetti l'ex marito dell'attrice e Pino Quartullo il suo ex compagno Stefano Mainetti compositore e direttore d'orchestra romano è stato il marito di Elena Sofia Ricci per ben 20 anni la coppia ha avuto una figlia Maria e sembrava essere una famiglia perfetta purtroppo nel 2022 hanno annunciato la loro separazione senza mai rivelare i motivi dietro questa scelta Pino Quartullo attore di cinema e teatro nato a Civitavecchia è stato l'ex compagno di Elena Sofia Ricci prima di Stefano Mainetti I due hanno avuto una lunga relazione e dalla loro unione è nata la figlia Emma che ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo Elena Sofia Ricci ha confessato in una recente intervista di aver sofferto molto in amore Dopo aver parlato dell'ex marito e dell'ex compagno ha ammesso di non essere mai riuscita a ricreare l'idea di famiglia tradizionale che tanto desiderava Cresciuta con sua nonna dopo la separazione dei genitori ha trovato conforto nella danza classica e nel teatro La vita sentimentale dell'attrice non è stata facile ma ha sempre trovato la forza di andare avanti Speriamo che Elena Sofia Ricci possa trovare finalmente la serenità che merita